Lo spunto da una festa del 1955, la festa dell'uva. Siccome non ci sono più vigneti dalle nostre parti, l'abbiamo sostituito con la castagna e con tutta la civiltà che deriva dalla castagna. È andata subito bene. Ogni anno aumenta il numero delle persone che arrivano, soprattutto se il tempo è buono. La struttura è rimasta sempre la stessa, quindi snodarsi per tutte le strade e le piazze del paese. E attraverso realtà diverse, che possono essere i banchetti gastronomici oppure tutta la parte dell'artigianato. C'è la gastronomia che è particolare e abbiamo anche gli agriturismi che quest'anno danno le merende, che poi sono sempre cose tipiche. Le chiamiamo merende ma possono essere anche cose molto sostanziose. È una bella festa e più che dire andiamo avanti così, servirebbero a forze nuove, perché purtroppo si fonda su persone che cominciano ad avere la loro età. E quindi non è che si potrà andare avanti all'infinito. Ci vogliono giovani che portino avanti questo discorso e lo migliorino. Noi stiamo cercando di promuovere Sopra la Croce come territorio che è ricco comunque di tesori nascosti e sono anche poco conosciuti. E quindi stiamo cercando di rilanciare ogni piccolo tesoro nascosto. Come potete vedere comunque qua abbiamo la pietra borghese, abbiamo i cavalli selvaggi, abbiamo la fonte dell'acqua ferruginosa, la cascata della Cianà. Poi ovviamente adesso noi giovani stiamo cercando di promuovere l'antica chiesa di San Martino di Ricciorno, che per noi è una parte veramente importante del nostro territorio, che dovrebbe essere valorizzato tanto quanto altri posti. E quindi diciamo che con questa iniziativa stiamo cercando comunque di far conoscere a più persone possibili il nostro territorio. L'asinello è bello in tutte le stagioni, anzi forse quella estiva è quella che loro rimangono un pochino più nervosi, un pochino più tesi per le mosche, per il caldo. Una passeggiata sulla neve non sarebbe da escludere, ecco perciò è tutto l'anno bello con gli asinelli e soprattutto il fatto di farli su in azienda dà l'opportunità di poter fare percorsi nella natura, altrimenti li facciamo giù sull'asfalto, in città, in paese, lì si fanno nella natura con mete che sono altrettanto suggestive. Ecco, il rapporto comunque animale-bambino è già bello di per sé e unendo l'asino al bambino è una cosa bellissima che io porto avanti proprio con ambizione perché ho scoperto che rendo felici i miei asini e soprattutto i bambini. La storia di Fungi perché una volta un signore meridionale mi ha chiesto ma che ne sono Fungi? Insomma Fungi, manco buono di dirlo, da noi si dice Fungi. Le battute sono le frasi che dicono tutti i Fungaioli, sia che dicono i Fungaioli di qua i locali che i Fungaioli che vengono da fuori, nel senso quando uno dice anche io non sono venuto a mangiare perché è in Tifunzi, si dice sempre ti ne trovo, io anche io ho proprio in Tifunzi, no? E anche le altre, anche l'altra battuta che dice i Fungi fanno parlare e fanno stare a siti, perché è vero, io vedo quando magari vado al suo rifugio Prato Mollo ci sono certi che parlano e certi che non parlano, dipende da come è andata la giornata.